Diversi eventi preparano in Alto Adige l'85esima adunata nazionale degli Alpini, di uno di questi ci parla il prossimo servizio. Sono le voci del coro Montipallidi di Laives sotto la guida di Paolo Macagnani, che ieri sera si è esibito sul palco del Conservatorio Monteverdi di Bolzano in un concerto dedicato allo scrittore vicentino Mario Rigoni Stern. L'evento rientra nell'arco delle manifestazioni intitolate Aspettando la adunata ed è organizzato dai gruppi Alpini dei Piani e Bolzano Centro. La serata è stata caratterizzata dall'inframmezzarsi di canti popolari e alpini e brani, voce narrante Claudio Macagnan, tratti dal racconto dello scrittore veneto. Lo spettacolo, che è già stato portato con successo in alcune città italiane, segna un percorso dove si può percepire lo scorrere del tempo, l'avvicendarsi delle stagioni, le vicende dell'uomo, i ricordi di guerra, lo splendore della natura con i suoi colori e sapori, i suoi mutamenti spesso voluti da uomini e donne, attori e testimoni della storia. Rivive così la voce ormai silenziosa di Mario Rigoni Stern, con spezzoni tratti dai suoi libri più famosi come Quota Albania, Il sergente della neve, L'amore di confine, Storia di Tonele, Le stagioni di Giacomo, Storia di Mario, Mario Rigoni Stern e il suo mondo, tra due guerre e altre storie.